Stamattina siamo andati sotto Palazzo di Città perché c'era una conferenza stampa su 6GP e ritenevamo opportuno incontrare il sindaco per far capire al sindaco di Tarnato che forse noi eravamo più importanti. Queste persone, tutti questi imprenditori portano 400 milioni di fatturato l'anno, 4.000 dipendenti. Leggiamo sui giornali oggi 5.000 aziende del commercio stanno in crisi. Qualcuno si è posto la domanda come mai che se non solamente noi avanziamo 140 milioni di euro cash e di IFIS ceduto altri 29, in una città come Tarnato è normale che crolla l'economia. Quindi questo è un problema del sistema Tarnato che sta crollando e noi chiediamo risposte. Oggi attendiamo dal prefetto questa riunione, abbiamo parlato anche con questore che si stanno impegnando per avere una riunione con il CDA di Invitalia, il CDA di Adi con facente parto Invitalia, Arselo Mittal, chiaramente il governo, la regione Puglia e se vorrà partecipare il comune benvenga insieme all'indotto perché la domanda che voglio porre è una sola, intanto quando ci pagano e secondo voglio sapere chi è la responsabilità di aver staccato tutti questi ordini in questi ultimi sei mesi sapendo che in pancia non c'erano i soldi per pagare tutti questi soldi. La protesta non si ferma, noi siamo qui, rimaniamo qui fino a quando il governo, fino a quando Adi non ci dà una risposta. Non devo aspettare il giudice di Milano come è successo nel 2015. Il sindaco di Tarnato che ha fatto per niente? Ha detto che è offeso, quindi non so cosa abbiamo fatto, ci dispiace perché lui dice c'è questo, non ho idea come mai lo dica. Noi siamo andati sotto a Palazzo di Città per capire come mai ieri non fosse venuto l'istituzione più importante che sta a Tarnato sotto la prefettura a parlare con noi, a chiedere come mai c'erano queste cose. Chiaramente è rimasto male, evidentemente non ci ha convocato. Mi dispiace, mi dispiace perché probabilmente ha tanti impegni e chiaramente in questo momento e non riesce a distinguere le priorità. Mi dispiace bloccare il ponte, non era nostra intenzione perché la città di Tarnato ha già appena tanti problemi. Io qui vorremmo avere tutti i commercianti, ho chiesto alle associazioni di categoria di stare insieme a noi perché questo non è un problema dello stabilimento Ilva. Sicuramente è un problema ex Ilva che è la madre di tutte le vertenze, ma questo è un problema del sistema Taranto. Cioè serve dare una svolta in questa città, non si può andare avanti in questi termini. Bisogna assolutamente unirci tutti quanti e dire basta perché non se ne può più. Non c'è più economia. Se leggiamo sui giornali 5.000 addetti si lamentano del fatto che non c'è commercio, non ci sono entrate, non ci sono entrate perché la parte più economica, più importante della città è tutta quanta qui. Sono 85 aziende con un fatturato che ho detto prima. I nostri collaboratori non ci lasciano mai, a prescindere dai rapporti con i sindacati che sono sempre ottimi e sicuramente traguarderemo ottimi risultati nel tempo. Noi abbiamo fatto anche delle riunioni con loro e con i commissari Exilva per presentare un protocollo di intesa. Ma questo è tutto il futuro perché così come Aigi oggi sta qui a chiedere i soldi per giusti, per quello che noi abbiamo lavorato, domani Aigi sarà qui per gli investimenti e per il futuro di questa fabbrica, per il futuro di Taranto e che ci sia la reale ambientalizzazione e che gli investimenti vengano fatti qui. Grazie a tutti.